ciao no, sono sempre io, sono Fabio Avaro, no, vi sto a parlare dallo sgabbuzzino perché è una cosa pericolosissima ragazzi, un complotto ma questo è vero, io parlo dallo sgabbuzzino perché è una cosa, siamo controllatissimi da tutti, io ho aperto il frigo, l'altro giorno ho preso dei sufficini, c'è un sufficino che mi guardava con fare che non me convince secondo me c'è qualche microchip perché ci spiano allora vi devo dire una cosa importantissima ragazzi io ho un amico che lo zio è fidanzato con una che è una dirigente di un importante multinazionale delle cartucce compatibili per le stampanti no, vi spiego che è successo, che praticamente sta storia che sta cambiando ogni volta l'autocertificazione lo fanno apposta lo fanno apposta perché ci controllano che cosa succede? ti finisce il toner a furia di stampato e certificazioni diverse esci per comprare la cartuccia te beccano e te multano e paghi 3000 euro di multa non uscite ragà è un complotto questo ci stanno a controllare poi vi informo anche su altri complotti che mi faranno sapere attenzione 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 attenzione